Dal primo dicembre parte da Porta Susa un nuovo collegamento con San Mauro e la nuova linea del busotto inaugurata questa mattina dal vice sindaco della città metropolitana di Torino Jacopo Suppo, dalla sindaca di San Mauro Giulia Guazzora e dall'assessore ai trasporti della città di Torino Chiara Foglietta. Il busotto partirà da via Mezzaluna a San Mauro e consentirà fra l'altro un accesso più agevole ad alcuni istituti scolastici superiori situati lungo il percorso. Ci troviamo in Corso Bolzano davanti alla stazione di Torino Porta Susa, qui farà capolinea la nuova linea 8 che abbiamo inaugurato oggi, la linea 8 gestita con dei bus 18 metri quindi degli snodati, parte da San Mauro e percorre via Bologna attraversando dei punti nevralgici tra cui tre scuole come richiesto dalla circoscrizione 6, passa davanti alla nuvola Lavazza, al comando dei vigili della Polizia Municipale davanti alla Questura e fa appunto nuovo capolinea qui. La linea 8 che abbiamo inaugurato questa mattina è un risultato di grande importanza per il territorio dell'area metropolitana e soprattutto dell'area nord, il comune di San Mauro da tempo chiedeva sia GTT sia città metropolitana la possibilità di avere un collegamento con il centro città e appunto il centro di San Mauro che fosse più rapido senza troppi cambi e che adesso è una risposta puntuale alle esigenze dei cittadini, soprattutto dei giovani cittadini, degli studenti e delle studentesse. Questa è un'iniziativa che era stata anche inserita in una dei tavoli di programmazione del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, ed è la dimostrazione che quando si lavora insieme si riescono ad ottenere delle iniziative come queste che danno una risposta concreta, un'esigenza reale di tanti cittadini che insissono su quel territorio. Io ringrazio GTT e ringrazio la città di Torino, la stessola Foglietta in primis perché hanno saputo cogliere un'esigenza e in pochi mesi tramutarla in realtà.